La Raggi ha fatto bene a dire no alle Olimpiadi? Certo Convinto? Convintissimo Perché le Olimpiadi sono belle, è un evento sportivo bello comunque, a prescindere da tutto quanto è bello Io mi sono divertito quest'anno, mi piacerebbe rivederle poi a Roma, me ne andrei a vedere pure qualche gara La Raggi ha fatto bene a dire no alle Olimpiadi? Sì Ha fatto bene? Sì, beh, troppe opportunità perse per la città, ma anche perché ci sarebbe stato, io penso, un comitato che controllasse sugli eventuali sprechi Secondo me sì, anche se sono ancora un po' combattuto, diciamo, tra il sì e il no alle Olimpiadi, diciamo, è un tema molto molto delicato La Raggi ha fatto bene a dire no alle Olimpiadi? No Ci volevano? Sì